Salve a tutti, buon tutto. Voglio dire una cosa. Nella vita non dovete mai sottovalutare un disabile, soprattutto un epilettico o un ex epilettico. Oggi ho visto un video che mi ha fatto riflettere tanto, anche perché sono un'ex epilettica, però mi ha fatto capire quanto siamo bravi gli epilettici ad aiutare nonostante che ci rifiutano, ad aiutare le persone nonostante che ci rifiutano e non ci accettano. Perché dopo, poi quelle stesse persone, quando si sentono male e magari trovano la persona che hanno rifiutato proprio in ospedale, dopo si accorgono dello sbaglio e chiedono scusa, chiedono perdono. Quindi riflettete sul link che vi metto del video che mi ha fatto vedere mia madre oggi. Ecco, adesso ve lo faccio vedere. Vi dico nella descrizione di questo video, anche su questo video, il link.